Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pastella per fritti senza uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 30 minuti di riposo in frigo. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, acqua frizzante fredda e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, l'acqua frizzante che deve essere molto fredda, e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. La pastella è pronta, trasferiamola in una ciotola e riponiamola in frigo per 30 minuti prima di utilizzarla. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pastella che è pronta per essere utilizzata con le verdure. Intingere le verdure e friggere in abbondante olio bollente. Pastella per fritti senza uova. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!